Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi registro questo video con il morale veramente a terra. Ieri purtroppo la mia cricettina panna è venuta a mancare dopo due anni in famiglia. E anche se avevo già messo in conto che prima o poi sarebbe successa questa cosa, non siamo mai veramente pronti quando accade. Scusatemi questo sfogo, ci tenevo però a dirlo, è un po' come dargli un ultimo saluto. Adesso comunque proseguiamo con l'argomento di oggi, sempre merente alla domotica, parliamo di lampadine smart a LED, controllabili sia tramite applicazione, sia vocalmente tramite Alexa e Google Assistant. Ne ho provate di due tipi, una di Tekin e l'altra di Merus, e sono delle buone alternative per chi non vuole spendere molto, ma ottenere degli ottimi risultati. Partiamo col vedere le lampadine della Tekin, nella confezione ne troveremo due, più il comodo manuale anche in lingua italiana. Attacco grande E27, 800 lumen di luminosità, 8 watt di potenza. Temperatura del colore che va da 2800 a 6200 kelvin, più RGB. Per associarle useremo l'applicazione Smart Life, ma adesso vi farò vedere come fare. Vediamo come associare la lampadina di Tekin all'applicazione Smart Life. Mi servirò di questa lampada di Ikea dove ho già installato la lampadina. Io l'ho già configurata per mia comodità, comunque adesso vi faccio vedere come fare. Scaricate l'applicazione se non l'avete fatto e create un account con i vostri dati. Segnatevi questi dati perché vi serviranno successivamente. Innanzitutto si va a cliccare sull'icona più in alto a destra, sezione illuminazioni e fonte di luce wifi. A questo punto vi chiederà la vostra rete wifi, la vostra password, cliccherete su avanti e seguirete le istruzioni a video. Cioè vi chiederà di spegnere e accendere velocemente l'interruttore della lampada per fare in modo di far entrare la lampadina in modalità copiamento. Cioè la lampadina comincerà a lampeggiare velocemente. Fatto questo, cliccherete su avanti e aspetterete che l'applicazione trovi la lampadina e la configuri. Io avendolo già fatto, torno nella schermata Home. A questo punto possiamo, cliccandoci sopra, controllare completamente la lampadina. Cioè tipo accenderla, spegnerla, come ho fatto adesso. Adesso la riaccendo, vi faccio vedere le modalità di bianco. Allora innanzitutto con la prima barra si controlla, come vedete, la luminosità e con la seconda la temperatura del colore. Infatti vedete che passa da luce fredda a luce calda e viceversa. Poi abbiamo le modalità scene, no scusate, le modalità colore. Qui si possono cambiare tranquillamente tutti i colori, come vedete. E poi abbiamo la modalità scene. Ci sono varie scene in cui potete tranquillamente scegliere. Adesso ne clicco una a caso. Vediamo, ecco vedete, comincia a cambiare, fa la scena predefinita. Poi abbiamo anche la modalità timer che possiamo aggiungere per fare in modo che la lampadina si accenda a un determinato orario che vogliamo noi, se farla accendere solo una volta o un giorno della settimana o tutti i giorni della settimana. e fare una notifica anche se, caso mai, la lampadina va offline. Vi ricordo di collegarla, ovviamente, al Wi-Fi 2,4 GHz, perché col 5 non funziona. Vediamo adesso le lampadine della Meros. Nella confezione che vi arriverà ce ne sono sempre due. Attacco e 27, 810 lumen di luminosità, qualcosa in più delle Tekin, e 9 W di potenza. Temperatura del colore che va da 2007 a 6500 Kelvin. E li associeremo, invece, qui con l'applicazione della Meros. In realtà, quando incomincieremo l'associazione, partirà quella di HomeKit, perché sono compatibili anche con Apple HomeKit. Solo che, per il momento, non è possibile controllare la temperatura del colore. È un problema che Meros ha già comunicato ad Apple e probabilmente verrà risolto in un futuro aggiornamento. Quindi adesso andiamo a vedere come associarla con l'applicazione. Vediamo adesso come configurare la lampadina di Meros con l'applicazione Meros. Vi ricordo che, per gli utenti iOS, una volta iniziata la configurazione, si verrà indirizzati in Apple HomeKit, perché queste lampadine sono compatibili anche con quelle. Una volta associata, tramite il codice che sono attaccate le lampadine in Apple HomeKit, ce la ritroveremo anche nell'applicazione di Meros. Quindi basterà andare a fare la spunta sul tasto più in alto a destra e troveremo, adesso qui non si vede perché io l'ho già associata, troveremo il dispositivo ad associare. In pochi minuti sarà tutto pronto anche nell'applicazione di Meros. E ci troveremo in questa schermata. Da questa schermata, come vedete, possiamo accendere o spegnere, e viceversa, e andiamo nella selezione della luminosità e dei colori. Girando la rotellina, vedete, possiamo cambiare tutti i colori. Da qui selezioniamo l'intensità della luce. Vedete, cala e aumenta. E poi abbiamo anche la temperatura del bianco. Qui siamo al bianco massimo, bianco freddo, e adesso qui andiamo al bianco un po' più caldo. Quindi, tutto molto facile da configurare. Anche qui ci sono gli scenari da aggiungere. Ci sono le routine. Programma di accensione e spegnimento. Autospegnimento dopo tot minuti. e anche l'aggiornamento del firmware. Quindi, diciamo, anche questa è un'applicazione veramente molto ben fatta. Come avete visto, è molto semplice. Qui l'associazione, devo dire, è un pelino un po' più complicata rispetto alle lampadine di Tekkin, ma è ottima la comodità di poter associare anche ad Apple HomeKit. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero di essermi spiegato bene. Bene, nel caso in cui aveste ulteriori dubbi, potete scrivermelo qui sotto nei commenti. Vi risponderò il prima possibile. Come avete potuto vedere, sono due ottimi prodotti che si pongono come alternativa alle più costose Philips Hue. Il costo è accessibile a tutti e la facilità di utilizzo altrettanto. Se comunque siete interessati all'acquisto, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Io non posso fare altro che darvi appuntamento, sempre qui sul canale, per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.